Stamattina, come spesso mi succede ultimamente, sono stato chiamato a raccontare una storia che ha il sapore del futuro. Una storia di giovani che hanno visitato un mondo a molti inesplorato, quale il mondo della cultura, e sono tornati un po' come gli esploratori della terra promessa. Sono tornati indietro portando melograno, fico e uva. Hanno portato la dimostrazione che è possibile non soltanto vivere di beni storico-artistici, ma soprattutto guarire ferite ataviche che caratterizzano il mio noto e amato rione, il rione Sanità. È da un po' di tempo che al posto della cronaca nera stiamo aggiungendo stralci di umanità verace e di cultura. È quello che per noi ha questo grande sapore di futuro. Io ci credo e riesco a testimoniare che se è successo alla sanità un cambiamento è possibile ovunque. Nel mio intervento sottolineerò alcuni aspetti fondamentali sul tema della trasformazione urbana. Innanzitutto il contesto in cui viviamo è un contesto di grande cambiamento che non è solo economico, è sociale, ideale, è politico, è culturale. Secondo l'aspetto delle persone, quindi le persone stanno cambiando molto. Allora se le persone cambiano molto, non sono più quelle le persone di una volta, le città cambieranno conseguentemente, perché le città sono nient'altro che comunità di persone. Come dice un sociologo americano, Glaser, le città non sono calcestruzzo, sono carne, scarne di persone. Allora per affrontare in maniera adeguata questi aspetti della trasformazione urbana credo che ci sia bisogno di focalizzarsi su una serie di aspetti. Io ne ricordo quattro in particolare. Il primo appunto, le città sono delle foreste urbane ormai, il territorio è completamente urbanizzato, non c'è più confine fra città e città. Il secondo aspetto, la necessità quindi di prendere in conto la complessità come approccio per gestire le città e le sue trasformazioni, non più settorialismi, non più riduzionismi, ma complessità e un approccio sistemico. Il terzo aspetto, quello della partecipazione delle persone. Le persone sono diventate molto più acculturate, hanno soddisfatto i loro bisogni sostanziali, quindi sono le persone che devono entrare nel governo delle città. Basta con gli eletti, fra virgolette, ma sono delegati le persone che ci governano e quindi dobbiamo tutti dare il nostro contributo progettuale, propositivo sempre di più. Il quarto aspetto, la città creativa. Bene, le città se vuole essere viva deve fare cultura, deve fare cultura come sta facendo Udine in queste settimane con Friuli Future Forum, deve farlo perché è l'unica strada per poter fare sviluppo e poter fare economia e poter fare ricchezza, che è benessere che non sarà più quantitativo ma sarà un benessere spirituale. Questi alcuni degli scenari possibili sui quali credo che sia importante portare l'attenzione di chi è la classe dirigente delle nostre città oggi in Italia. Grazie.